Tutti vogliono la freschezza del marcio E mi sembra un ossimoro La freschezza del marcio Ma è con questa canzone che vorrei introdurre La prossima mezz'ora Perfetto Ottimo direi Ciao mondo, ciao Claudio Mondo Marcio, Andorocchi e Tissami Buongiorno, buongiorno Siamo nel weekend della DJ Ten Saluto gli amici che stanno aspettando a Bari Domenica mattina ci vediamo Siamo già quasi in 10.000 Fantastico Bari vecchio e Bari nuova Sendo a Bari Sono già in partenza Bari vecchio e Bari nuova Tu ho fatto una domanda Tutti e due 10 di novembre sono tanti Lungo mare Lungo mare Senti, per fare carboloding, Aldo Prima di, diciamo, di questa cosa Va bene la pasta al ragù? Al ragù? Eh, non va bene? No, puoi prendere anche un etto di burro No, no, no Ti mangi la patina No, sembra una domanda tendenziosa Va bene perché il carbo è della pasta Un giorno prima Due giorni prima Allora, tu devi 70 grammi di pasta e 100 di ragù Non vanno bene? Un po' sbilanciato Tu devi capire una cosa Che molti non hanno capito Noi abbiamo tantissime calorie Perché abbiamo tantissimi grassi Ma i grassi non riusciamo a intaccarli E poi i grassi sono meno preziosi degli zuccheri Cioè a parità di un grammo di grasso Un grammo di zucchero Quello che ti serve è il grammo di zucchero È molto più raffinato Vai molto più forte Questa è una differenza che pochi sanno Meglio a 100 grammi di pasta E 8 di ragù Capito? Cioè appena appena macchiato di un po' di carne Tu perché corri? Quando corri? Io corro per la mia mente Caro Aldo Ah bravo Perché se io non corriessi Sarai pazzo E triste Sarai triste E pazzo Bravissimo Quindi cerchi di stare in compagnia Della tua mente Sì certo Perché sai Noi diamo sempre Perché si corri? Noi diamo sempre un valore strumentale alle cose Noi viviamo un'epoca Perché lo fai? No Noi viviamo un'epoca Diciamo utilitarissima Certo A cosa ti serve? Esatto Come mi dice sempre il mio agente Ma a cosa ti serve? E questo secondo me è l'oscurantismo Nel senso che A un certo punto Tu ti devi svincolare Dall'autorità dei motivi Cioè i motivi per cui corri È un'autorità È un impero Cioè io corro perché ci provo gusto Io corro perché sto bene Io corro per combattere lo stress Io corro per stare in compagnia con gli altri Io corro per provare la resistenza mia E voglio provare la resistenza e la velocità nei confronti degli altri Cioè trovi sempre una motivazione No E invece? E invece la corsa ha un valore intrinseco Cioè il valore intrinseco della vita La risposta è corro perché mi piace Corro per correre Questa Questa è la cosa che bisogna fare Cioè perché come dici tu Io corro per stare in compagnia della mia mente Cioè bisogna correre È un dovere correre Avete presente l'astronauta? Cosa gli ha fatto fare? L'ha fatto correre L'ha fatto correre Nello spazio Nello spazio L'astronauta quello col gemello? Esatto Esatto L'astronauta è andato nello spazio e doveva correre sei giorni alla settimana Si riesce a correre nello spazio Certamente Imbragato 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 Con degli elastici Schiacciato Schiacciato perché la gravità ti porta a giro Anche quando dormi Devi stare sdraiato e legato Se no la cucetta inizia a volare Che vita Hai 500 metri 500 metri quadri Ma più grande No scusami Sì 500 metri quadri Gigante Una roba incredibile Ma corrono su un tapirulano Su un tapirulano Fanno pesi eccetera eccetera E devono correre Perché altrimenti se non corrono non vanno da nessuna parte Correre Correre per il piacere di correre Una canzone di Bob Dylan Ricantata dieci anni fa ormai da Brian Ferry Su Radio DJ le 11.41 Siamo nella mezz'ora di Aldorock Che ci stava raccontando appunto di quello che ha fatto questo astronauta americano Che si chiama Scott Kelly D'abbiamo parlato anche voi in diverse occasioni Un esperimento ulteriore rispetto a quelli che hanno fatto fino adesso Perché lui è partito lasciando sulla terra un suo gemello Quindi il modo più efficace che potesse esistere Per vedere i cambiamenti che intervengono Uno è rimasto sulla terra e ha fatto vita normale Lui ha fatto sei mesi nello spazio Quindi ovviamente nel corpo ma anche nella mente Quasi un anno ha fatto Anche nella mente Quindi lui ha corso per 1030 km Quindi sono tanti Perché comunque riuscendo a correre sei volte alla settimana Tutti noi dovremmo correre sei volte alla settimana 25 minuti 25-30 minuti Cioè se c'è riuscito lui Anche noi potremmo metterlo come priorità E questo è importante Ma la cosa incredibile È che noi perdiamo liquidi Ok? Nello spazio i liquidi che perdi Li devi recuperare Ma le goccioline quando tu sudi Poi la gocciolina te la trovi davanti alla faccia La gocciolina e la sua urina diventava la sua acqua Cioè questo è la trasformazione Cioè ci sono delle macchine apposta Dei depuratori Che recuperano tutti i liquidi Quindi la respirazione è quella giornaliera Ti porta via un litro e mezzo di liquidi Cioè tu non fai niente e perdi un litro e mezzo di liquidi Perché comunque tu emetti una cosa che è umida L'aspiri, l'aspiri E tu hai da la bocca Quando ti fuori è umidità Lui in più correva e quindi consumava molti liquidi Alla fine ha bevuto 750 più o meno litri recuperati Cioè ha recuperato Sai quello della frisia? Quanti soldi? Anzi 730 per l'esattezza E poi ha, come si dice Le ore che ha passato in allenamento sono state 100 ore 100 ore, quindi 100 ore nella corsa Scusami Aldo, velocissimo Quando fai pipì vai a far pipì in un posto che si tiene là Esatto E poi dopo quando schiacci perché vuoi un bicchiere d'acqua esce anche Diciamo che se siamo in grado di stare nello spazio per così tanto tempo Saremo anche in grado di purificare la pipì e fare la libertà Tieni presente che la navetta quando gira Ma in una giornata vede circa 6 ore Dunque ogni ora e mezza più o meno fa il giro della terra Calaldo l'ha studiato poco Calaldo l'ha studiato poco Ogni ora e mezza fa il giro della terra 90 minuti fa l'ordica Ma puoi spiegare a quelli che stanno ascoltando Come si fa a correre in un posto senza gravità Noi abbiamo visto prima dei filmati molto interessanti Cioè il tapis roulant è tra virgolette normale Ma chi corre ha una specie di imbragatura Imbragatura, hai degli elastici di te Con degli elastici Quindi la corsa è un po' schiacciata Sicuramente Però comunque c'è Io mi ricordo ad esempio al Conti Chi aveva dei problemi al collo Il Francesco aveva costruito un'imbragatura Per tenere il collo sollevato Per alleggerire Ok, ecco Tenete presente che lui Dopo la sua missione È cresciuto in altezza Di quasi 4-5 centimetri Ci vado Ci vado anch'io Cioè io quando ho fatto il The Iron Man Ho perso 2 centimetri The Iron Man Te la sei cercata Vai con il tuo Con il tuo manoscritto Uomo corri Comincia col fare ciò che è necessario Poi ciò che è possibile E all'improvviso Ti sorprenderai a fare l'impossibile E se la corsa non è per te Passo dopo passo Respiro dopo respiro Imparerai a trascorrere del tempo In compagnia del tuo spirito Della tua mente Del tuo corpo Correre il bene Un altro regno dell'esistenza Correre a prendere nel corpo e nella mente Il significato profondo della vita Fatica e piacere Questo è veramente la corsa Quella vera Quella che ti abbraccia e ti stringe forte Che ti accarezza l'anima E ti fa sentire in paradiso Dove il destino Non avrà più potere su di te Corri uomo Non inseguire nulla Corri e basta Ma non lo dicevano mai Jam Sound Revival Si chiama il gruppo La canzone è molto bella If Not For You E' una canzone che mi sembra di aver già sentito Chi la cantava questa? Dunque Quella di prima la cantava Bob Dylan Ed era stata scritta Quella di prima Era stata scritta Forth Street a New York Era il luogo dove c'erano i locali folk Ok Ok E lui dopo quattro giorni Il concerto di Newport Dove tutti si arrabbiarono Per la sessione elettrica Lui scrisse questa canzone Dicendo Ah voi Sono quelli che parlano male dietro di me Cioè è stata un po' una ripita nei confronti di queste persone E la stessa La stessa canzone fatta da Bob Dylan Rifatta da Brown Ferry E' una canzone presente Credo Ma questa è la canzone di prima Io volevo sapere di questa Questa di adesso E' la canzone che ha fatto George Harrison Perché George Harrison era molto amico di Bob Dylan Ma è sempre di Bob Dylan Sempre di Bob Dylan Alla fine salta sempre fuori E' sempre il maestro Salta sempre fuori maestro Non puoi sbagliare Non puoi sbagliare Cosa hai ancora lì? No volevo dire solo un'ultima cosa Hai due minuti per dirla Alla fine Cioè la corsa Al di là del piacere e della fatica Ma il valore intrinseco della corsa È che ti dà la gioia Cioè la vera gioia Che è qualcosa che va oltre La fatica e il piacere Perché comunque Cioè tu Durante la maratona Non è che provi piacere Anzi Non tantissimo Quando si dice sì Cioè in alcuni momenti Sì Ma anche quando finisci Qualcuno dice E adesso cosa faccio? Un momento Però Però cosa succede? Succede che hai la gioia Questa è la cosa Questa sensazione di gioia Che è qualcosa che dà valore alla vita Cioè la vita Bisogna trovare un senso in questa vita Qualcosa per cui valga la pena vivere Ecco La corsa è questo Poi Se tu scegli una corsa che ami Sicuramente Non farai fatica Nemmeno per un chilometro Pensa domenica Proveremo la famosa gioia del colle Esatto Il tempo in Puglia Proprio è la gioia più profonda Esatto Tu scegli Tu scegli la DJ Ama la DJ Ten a Bari E non farai fatica Nemmeno per un chilometro Grazie uomo Abbiamo finito Buon weekend a tutti Buon fine secolara Ci vediamo domenica mattina Alla partenza A Bari Che ora? Che ora parto? Non lo so Alle dieci Alle dieci Credo alle dieci Ma non lo so con certezza Adesso vedremo Ok Comunque appena smette di piovere Hai un'ultima cosa da leggere Ne hai facoltà Sì Correre Rende la vita Degna di essere vissuta Correte Ah DJ DJ Chiamare